Nettuno e Mercurio, il volto di Trieste nell'Ottocento tra miti e simboli è il titolo del volume pubblicato da Marsilio Arte scritto da Paolo Possamai, già direttore del Piccolo. Il libro scorrevole chiede al lettore un'attenzione particolare. Alzare lo sguardo per cogliere una quantità di messaggi e una intensità di messaggi. Possamai dunque racconta un momento unico nella storia dello sviluppo della nostra città con un punto di vista particolare. La storia delle personalità che a quello sviluppo contribuirono partendo dai loro palazzi fotografati da Manuela Schirra e da Fabrizio Giraldi con l'uso dei droni. Abbiamo setacciato l'apparato statuario e più in generale i bassorilievi e gli aspetti decorativi delle architetture dunque del volto di Trieste in modo sistematico. Fra le molte suggestioni che il testo affronta una riflessione sul perché in quel periodo Trieste poteva contare su un numero non indifferente di architetti e pittori. Nel 1797, trattato di Campoformido, la Repubblica Serenissima viene cancellata e dunque entra in una situazione di crisi anche economica profondissima. Le botteghe degli scultori e dei pittori che avevano lavorato per Venezia e che stavano lavorando per Venezia in quel tempo, che fanno? Vengono chiamati tutti a Trieste. Grazie. Grazie.